Ciao! Come stai? Immagino bene. Intanto ti ringrazio che mi stai ascoltando e ti voglio trasmettere un messaggio molto molto importante. Sono qui con mia moglie, ok? Che è la prima volta che la faccio vedere in un video. E oggi ti volevo parlare di come scegliere il professionista. E esattamente qual è lo strumento più importante? Sì, devi sapere che lo strumento più importante che deve avere il professionista che sceglierai per la tua venda di casa è la mentalità vincente. Sì, è proprio questo. Devi avere una mentalità vincente. Se avrà una mentalità vincente riuscirà a guidarti verso il successo e verso il raggiungimento del tuo progetto di vita. E' fondamentale. Altrimenti sarai guidato verso una strada sconosciuta per te e non saprai esattamente dove andrai. E' come diciamo una nave che è in mezzo al mare ma non ha il navigatore dove andare. Ed ecco perché è fondamentale. Io ti voglio dire questo, che ogni giorno combatto dalla mattina alla sera per avere una mentalità vincente, trasmetterlo ai miei clienti, far vedere esattamente i strumenti che utilizziamo per fare la differenza e ad avere un impatto ecologico sulle loro vite. Quindi se anche tu desideri essere guidato da un team di professionisti con una mentalità vincente scrivimi e sarò veramente felice e orgoglioso di poter realizzare il tuo sogno, quello della tua famiglia. Un grande abbraccio e ci vediamo presto, giusto? Eh sì, ciao!